E bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi siamo nella seconda parte appunto di questo episodio del rotto di Vision One su FIFA 15 Ultimate Team Il primo tempo era finito in parità per 2 a 2 Vai! Gundo Khan! Che cosa sta succedendo? Gol! Ciruzzo è immobile! La sua tripletta personale Mamma mia quanto è forte questo giocatore! E Shakiri cosa ha fatto? Mamma mia guardate! Tac! Tac! Bah! Ciruzzo è immobile! 3 a 2! Anche se siamo in 10 noi non moriamo! Tanta roba! No! Gundo Khan! Son! No! Dette che! Ecco ci ha segnato Lukaku! 3 a 3! Mimma che partita è? Non esiste! Continua al volo che non lascia scampo al portiere! Un gol bellissimo! Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione! Grande controllo! Se forse schippa è Romelu Lukaku! Mamma mia che nome bellissimo! Romelu! Hanno trovato nuovamente il gol della parità! L'ha presita ancora molto la dire! La passa... Sciurle! Sciurle! Grande uno contro uno! Occhio al contrasto! Oh rigore! Si vabbè! A lui prima gli ha dato il rigore! A me non me lo dà neanche se lo pago! C'è! Dai! Benteché del cavolo! Cosa si è mangiato ragazzi Lukaku? Leno! La butta su! No! La butta su Leno! Palla che finisce in out! Sciurle! Honmin Son! Son! Mamma mia! La butta in mezzo! La chiude molto bene! C'è il tocco! La deviazione! Palla in out! Non è d'angolo! Arriva l'intervento del direttore di gara! Benteché! No! No! Fermatelo! Che fortuna! Si alza la bandieria dell'assistente Ci sono le proteste Questa poteva essere una grande occasione! Eh sì! Hai ragione Pier! Nella! No! No! Butta! Prendila! Perché scioppa! Vai! Immobile! Dai! Ceruzzo! Dai che fai il poker! Sì! Ma cosa fai? Vente che? Eh ragazzi! No! Intervento rubido va corretto! Müller! Ragazzi! Mi sa che perdiamo perché siamo in dieci! Stiamo soffrendo! E' andato troppo doveva aspettare! Chorlet! Alla buttata via! Allora! No! No! Lukaku no! E' tutto solo! Attenzione al tiro! Possono festeggiare il gol del vantaggio! Quante emozioni! Soprattutto quanti gol! Punteggio sul 4 a 3! Smalling! Ragazzi scusate! Smalling! Ma cosa fa? C'è una palla che scivola a fondo cazzo! Questo replay ci permette di apprezzare nuovamente il gol! Ci ha insegnato! E per favore passamela! No! Che salto! Esci portiere! No! No! Leno! Benatia! Epp! Vai Shakiri! Ecco sei velocissimo! Ma cosa fa? Molto interessante! E molto spettacolare! Bam! Oh oh oh! Sarà arrivato dal fuoco! Mmm! Ragazzi intanto mi sa che morirò prima della fine del video! Per la tossi! Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo! Bel passaggio! Prova! Sì! L'ho salvata sulla riga! Che roba! Che roba! Immobile! Shakiri! 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 Dai! Sì però! Cork! Lukaku! Il laccio luco verso Fabregas! Leno! Si è alzata la bagnerina dell'assistente dunque! Fuori gioco millimetrico sembrerebbe! Eh ci vuole preparazione! Occhio! Manca poco al termine della gara con questi ultimi... A me! Oh no! Che parata! Calcio ad angolo, minuti finali, momento importante! Dai ragazzi pareggiamo almeno! Almeno pareggiare! Intercetta un pallone pericolosissimo! Cosa fa? Perciò il pallone! Prova il cross! Ci arriva bene! Parata spettacolare in tutto per il portiere! Vai Immobile! Immobile! Non ti faccio andare avanti perché sei lento come una capra! Ma cosa fa? Ci sono metri a disposizione! A giuricare dalle smorfe potrebbe essere un problema muscolare! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Dai ragazzi pareggiare! Si è infortunato Gundogan! Salta! Cosa fa? Cosa fa? Guarda l'uomo esibisce il tabellone Ben 5 minuti di recupero Immobile! Falla in mezzo dopo un buon intervento! Shakiri! Cosa fa? Perché gli va addosso? Alberto Moreno! Perché gli va addosso? Fabregas! Ma cosa fa Immobile? Un'ottima chiusura! Cosa fa? Nella E c'è un altro pallone! Ma a chi? A chi? A chi? A chi? Shurle fa schifo comunque Lo vendo quando sale di prezzo Cosa fa Aleno? Sto tarello Esce e recupera il pallone Sì anche Shakiri Cosa fa? Vabbè ragazzi Il video può assolutamente terminare qui Abbiamo perso 4-3 Ma eravamo in 10 Quindi Eravamo 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 svantaggiati Ehm Si è infortunato Gundogan e Shakiri Però speriamo che alla fine Non sia niente di grave E per un rigore Abbiamo perso Io vi ricordo di lasciare tantissimi like Arriviamo a 15 like Attenzione aumento Per il prossimo episodio di Road to Division 1 Commentate Iscrivetevi al canale Passate nella pagina facebook Che trovate appunto nella descrizione del video E noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao